Allora vediamo, siamo già arrivati al 13, al 13 si, la mia prima playstation che ho avuto, ma no siamo alla 12, no siamo alla 12, anzi siamo alla 12 si, la mia prima playstation che ho avuto, ma la prima videocassetta è il primo gioco oppure play play play? Fatto, è solo 15 secondi, ps4, ma cosa dici la mia prima play è stata la playstation 1, giuro è stata la playstation 1, era grigia piccolina, mi sa che è finita in garage quella lì, 0 punti a tutte e due, tiene, allora 13, io E' il mio cibo preferito, ma dai sono tutti, faccio, tu? Pollo, esatto, ecco le ho detto, se mancavamo questa città dove finivamo, 1, 1, vediamo, 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 non puoi guardare, il mio primo viaggio da solo, di che anno stato, in che anno era? Ehm... Sì, è stato e non è l'anno, tipo 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16... E io comunque già ho fatto? Cosa ti hai detto? 2015 No, stavolta hai perso, no aspetta sì, no 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 no, avete sbagliato tutti e due, lui ha detto 15, cioè lei ha detto 15, lui ha detto 13, e pensa che era nel 14 oddio prank era nel 14 quindi 0 punti a tutti si ma che mani di burrai fai cadere pure il tuo foglio il mio soprannome il mio soprannome ma quello vecchio o quello di adesso? quello vecchio quello di adesso si anche quello tutte e due comunque lo abbreviate se sto scrivere quello che ha detto allora praticamente il primo quando tornavi a caccio si chiamavano Pogba esatto mi chiamavano Pogba perché li assomigliavi esatto e basta hai scritto solo Pogba? si si bravo allora mezzo punto te si mezzo punto te perché lui ha scritto nega stai guei il nome del canale asso fai davvero schifo sono cascate giuro fai davvero schifo quindi 0,5 tutto e due tieni ok l'ultimo ma non mi tocca qua scrivere cosa scrivere cosa non sei capace a scrivere scrivo io per te allora che domani siamo arrivati? 15 ma che 15? io sono già arrivato al 17 no no il 16 no si siamo al 17 eh 16 scusa 16 allora quindi dobbiamo fare il 17 che scemo capisci niente allora no siamo al 15 no siamo al 17 ma perché no perché prima il mio primo viaggio è il 2015 14 16 scusa hai visto capisci niente non manca sai dove siamo arrivati allora il 17 16 quanti cappelli ho? quanti cappelli ho? 12 devi dimmi 5 5 no 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 Sirin non lo aspettavo da te no 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 tu? 12 tu? no lui ha detto 5 siamo in via di mezzo era 11 eri vicino al risultato quindi mezzo punto a te 0 punto a te ma fai schifo come fratello scherzo scherzo ti voglio bene quale siamo adesso? 18 16 qual è? non lo so secondo me abbiamo saltato una domanda controlliamo dopo allora 18 da quanto da quanto tempo porto gli occhiali? da 6 anni? da 6 no 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 da 8 da 8 lui ha detto 4 0 a tutti e due non lo so sì dal 12esimo domanda non hai più fatto punti no no ti ha portato gli occhiali sì il mio primo cioè il mio guarda cos'è che ho scritto? il mio video preferito sul nostro canale ovviamente dimmelo una vecchia 4 3 2 1 allora 0 punti a te vi ricordate quando ho preso la bottiglia ho detto guarda la moneta poi ho fatto è quello il mio video preferito sono sempre arrabbiata 0 punti a tutti e due questo qua questo qua se non lo sapete faccio comunque l'ultima penultima domanda giusto ah si quanti scritti abbiamo fatto quindi tu 100 no lui ha detto 16 lui ha detto 100 e sono 89 scritti wow manco uno scritto siamo a 90 16 non è tanto 16 non è tanto è più è più tanto 89 8 più 9 8 più 9 8 1 8 2 genitore 1 genitore 2 eh lascia stare se tu non capisci niente vediamo quale ha saltato 3 3 Un attimo di attesa, per favore. Ah, sì. E allora, sei pronto? Sei pronta? Sì. Sei pronta? Sì. Quanto porto di un numero di scarpe? Sì. 16,67. C'è il piccolo che ha. Tu? Cos'hai detto? 40. Serena ha vinto. Ti hai detto 16. Giù, ha sparato a caso. È giusto. Ho detto 16,60. E allora contiamo i punti. Allora, uno. Si rincele non va bene, eh. Fai veloce. 12 e mezzo. 12 e mezzo. Lui ha fatto 8 domande giuste. 8 e mezzo. Quindi la vincitrice di oggi è Astu. Non sei scarso. Io ti favo a te. Scarso. Eri il mio favorito. Vabbè, fa niente. Allora, il video è finito qua. Sì, è finito qua perché l'ho deciso io. No, no, scherzo perché sono finite le domande. Se il video vi è piaciuto, lasciate... Il like. Bravo. Su di noi. Suonate la campanella. Andate, venite a caso. Non so suonate la campanella. Così vi apriamo. E poi quando entrate, poi commentate. Giusto? E festeggiamo la festa. Ok, festeggiamo la festa. Io. Del video, io. Ok, ora sei zitto. Del video. Perché devo parlare io. Devo parlare io. Allora, lasciate tanti commenti. Tanti mi piace. E scrivete i video che volete vedere da noi. E niente, speriamo che questo video vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Cichit. E cichit. Ok, ok.